Ciao a tutti, sono Gianluca Scipioni e lo scopo di questo video è quello di presentarvi la mia linea di bocchini verge. L'innovazione che questi bocchini hanno è lo studio che il dottor verge ha avuto sulla conformazione delle labbra e quindi ha sviluppato un bordo che non è per nulla circolare. Quindi rotondo ma che è ovale. Abbiamo sviluppato quattro diversi bocchini, uno per la musica classica, uno per fare il solista o in orchestra quando c'è bisogno di un suono più brillante e così, uno ancora più estremo per fare musica leggera e così e poi un altro invece per il trombone contralto. Tutti e quattro i bocchini che ho sviluppato li abbiamo con due diversi ritmo, con due diversi appoggi, quindi l'appoggio un po' più grande e l'appoggio un po' più piccolo. Le tazze che ho sviluppato sono la tazza della Gianluca C, C sta per classic, cioè per suonare in orchestra o per fare dei concerti di musica classica così, è una tazza che è a metà fra un 5G e un 5GS. È la misura di un vecchio 5G. Invece per il Gianluca solo ho preso la tazza e le dimensioni di un 5GS. Per i registri più estremi e per la musica leggera invece ho creato la tazza del Gianluca Lead che corrisponde a un vecchio 6,5 Buck e poi invece per l'alto, sempre con lo stesso appoggio, abbiamo una misura che è a metà fra una E e una C e quindi molto più alto appunto per il tumore contratto. Sin dal primo momento che ho provato questi bocchini, soprattutto il Gianluca C, quello da cui sono partito nella mia ricerca, ho notato un miglioramento nell'unire i registri, quindi una facilità di passare nei cambi registri dal registro grave al registro acuto e quindi una maggiore flessibilità, una maggiore precisione nelle articolazioni e anche una maggiore resistenza, quindi permettono anche una grandissima risonanza e una grandissima propagazione del suono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Potete trovare i miei bocchini sul nostro sito, quello dei Govanan Brass, all'indirizzo www.govananbrass.com, sezione webshop. Grazie a tutti, ciao e arrivederci al prossimo video. Come ti chiami? Il diametro del Gianluca è un po' più grande. L'innovazione che questi bocchini hanno è l'innovazione del ritmo.